Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo e siamo ancora qui con la seconda parte della trasmissione a parlare ancora della situazione in cui stiamo vivendo il sistema sociale in cui viviamo e di tutte le questioni che riguardano la magia e la stragonaria cioè la capacità dell'uomo di trasformarsi nella vita affrontando in maniera coraggiosa, in maniera consapevole quelli che sono i problemi, quelle che sono le tematiche che la sua esistenza li pone davanti che sia la sua esistenza come individuo della natura sia la sua esistenza come individuo sociale Allora prima di cominciare la trasmissione di oggi vi ricordo che sabato 28 gennaio alle ore 20.30 qui a Radio Gama 5 in sala dibattiti terremo il dibattito relativo al giudizio di necessità Giudizio di necessità fa parte di 19 elementi che compongono il crogiolo dello stragone Nei primi 5 elementi del crogiolo dello stragone abbiamo parlato di come prendere l'uomo che vive adesso la persona, le donne e riportarle all'interno della natura In pratica il sistema sociale col condizionamento educazionale, con la vita sociale noi veniamo indotti a perdere di vista ciò che siamo cioè esseri della natura ciò che siamo divenuti per milioni di anni all'interno della natura le nostre trasformazioni e siamo portati a dimenticare le forze della trasformazione cioè le forze che hanno portato a farci diventare ciò che siamo le nostre scelte, l'uso della volontà l'uso della contemplazione l'uso del chiamare le cose col loro fernome cioè praticamente quella interazione che esiste fra uomo e natura e che ha portato in milioni e milioni di anni di trasformazione dell'esistenza questo lo abbiamo fatto con i primi dieci elementi propri del crogiolo dello stragone poi siamo passati ad altri cinque elementi del crogiolo dello stragone questi altri cinque elementi sono degli atteggiamenti dei modi di essere dell'individuo all'interno della società civile della vita sociale in pratica nella vita sociale si pratica stragoneria e si deve praticare stragoneria si deve praticare magia perché proprio le caratteristiche di questo tipo di società pratica magia nera pratica distruzione dell'individuo per cui dobbiamo essere attenti sia agli inganni sia alle truffe che subiamo e dobbiamo essere attenti sia a manifestare il nostro intento sia a perseguire gli scopi della nostra esistenza pertanto ci sono cinque elementi che sono fondamentali sia come nostro atteggiamento all'interno della vita sociale sia come capacità soggettiva di valutare i fenomeni sociali che ci giungono a noi troppo spesso c'è gente che alza bandiere e altre persone li vanno dietro immaginando, proiettando su di loro le loro aspettative e le loro illusioni ecco, è necessario che noi chiariamo com'è la vita sociale chiariamo quelli che sono gli aspetti che fatti nostri possono portarci a continuare il processo di trasformazione e di divenire della società in cui stiamo vivendo questi elementi possono essere percepiti dalle persone in maniera diversa cioè, quando una persona parla di stragonaria in realtà non è che rivela cose assolutamente sconosciute o cose che non si sanno assolutamente o dei segreti impossibili il vero segreto della stragonaria non è nella cosa nascosta il vero segreto della stragonaria è in ciò che ci circonda cioè nella capacità dell'individuo di superare quelli che sono i confini della propria percezione i confini della propria determinazione i confini della propria conoscenza i confini del proprio sapere per giungere un po' più in là ecco, il segreto vero della stragonaria è che noi siamo una piccola frazione di consapevolezza all'interno di un immenso male sconosciuto e questa piccola frazione di consapevolezza subisce quelle che sono le tempeste della vita cioè in pratica noi siamo individui siamo prede di agguati e nello stesso tempo abbiamo delle tensioni interne che ci portano a portare agguati a cose che ci interessano che ci piacciono che ci danno piacere ebbene, è importante che noi riusciamo ad afferrare anche quelli che sono i mezzi con cui andiamo ad affrontare questo però li possiamo vivere in maniera diversa cioè quando io tengo un dibattito di stragonaria cosa è che faccio? io ho un testo cioè io preparo un testo che sia abbastanza lineare relativo all'argomento che devo sviluppare dopodiché all'interno del dibattito io leggo quel testo e in ogni momento le persone mi fermano per interloquire per discutere per chiarire per contestare quello che sto dicendo eccetera cioè in pratica il mio compito è quello di difendere quanto ho scritto e di cercare di far comprendere alle persone che quelle cose che sto dicendo sono delle cose magiche però cosa succede? che io non riesco a trasmettere alle persone la magia in se stessa perché la magia le persone devono trovarla dentro di loro cioè io posso solo trasmettere degli elementi delle tecniche dei concetti dei modi di guardare il mondo ma sta alle persone trasformare quello che viene trasmesso in conoscenza cioè trasformarle interiorizzarle e riprodurle nella vita sociale attraverso se stessi attraverso la propria interpretazione pertanto un dibattito di stragoneria dice cose di stragoneria ma diventano elementi di stragoneria solo se le persone riescono a sviluppare abbastanza poteri per trasformare queste informazioni che io do in strumenti effettivi all'interno della propria vita pertanto un dibattito di stragoneria praticamente non fa altro che rivelare le cose ma la profondità delle cose rivelate possono sapere soltanto quelle persone che hanno la capacità di trasformare quello che viene detto in conoscenza e riprodurlo nel sistema sociale dopodiché può essere un bel discorso può essere un discorso saggio può essere un discorso banale possono essere anche delle cose che per alcuni appaiono ovvie però ricordatevi che il crocello dello stregone ormai è fatto da circa un milione un milione e mezzo di caratteri e va ad abbracciare praticamente l'intero senso dell'esistenza umana pertanto cambiare il punto di vista con cui guardare ed affrontare la vita è fondamentale per riuscire a vivere una vita responsabile e una vita coraggiosa poi alla fine possiamo parlare di Ercole possiamo parlare degli eroi delle saghe nordiche possiamo parlare degli eroi delle saghe egiziane possiamo parlare di quello che vogliamo però se non riusciamo a capire cosa significa l'eroismo nella vita quotidiana cosa significa affrontare il leone di Nemea praticamente ci illudiamo che arrivi un salvatore da qualche parte e noi siamo in ginocchio ed è questo che vogliamo evitare appuntamento dunque per il giudizio di necessità il giudizio di necessità è un metodo che noi usiamo all'interno del sistema sociale e che il sistema sociale usa nei nostri confronti per cui ci saliva anche a capirne la qualità e come analizzare i giudizi che dal mondo arrivano a noi il dibattito sarà tenuto il 28 gennaio alle ore 20 e 30 qui in sala Radio Gamma 5 e per la trasmissione di questa sera invece per la trasmissione di questa sera continueremo il discorso che abbiamo iniziato una seconda parte della trasmissione dell'altra volta a proposito intanto ringrazio Franco che mi ha mandato i dati per riprendere il discorso su Paolo di Tarso a proposito l'altra volta abbiamo fatto a proposito da Paolo di Tarso a Ratzinger la diffamazione del matrimonio e credo che Ratzinger con le sue ultime esternazioni ebbe superato quello che è il limite del buonsenso credo sia al di fuori di ogni logica insomma eravamo arrivati per la chiesa cattolica la famiglia è una galera le cui sbarre sono costruite e alimentate dal suo odio sociale e sono rappresentate da uno la famiglia non è composta da persone ma da un pene e una vagina nella famiglia cattolica gli individui vengono depersonalizzati e identificati con ciò che hanno in mezzo alle gambe ed è ciò che hanno in mezzo alle gambe che è necessario controllarlo abbiamo sentito anche da Ratzinger e Eros da solo no bisogna sottometterlo a Dio cioè il Dio deve essere il padrone di ciò che voi avete in mezzo alle gambe è una cosa fuori testa ma è esattamente quello che ha detto Ratzinger la santificazione della condizione gerarchica per cui il sesso femminile deve sottomissione d'obbedienza al sesso maschile abbiamo visto con il prete calabrese quando ha stuprato la suora oggi è un esempio della situazione gerarchica dottrinalmente che il cristianesimo impone tre la funzione della famiglia è partorire bestiame in funzione del suo Dio e questo lo vedremo più esteso quattro lo scopo della famiglia è costringere i propri figli con la violenza ad accettare la fede nel Dio padrone e questo è il concetto di famiglia che ha il cristianesimo adesso vediamo un attimino di svilupparlo uno la famiglia non è composta da persone ma da un pene e una vagina nella famiglia cattolica gli individui vengono depersonalizzati e identificati con ciò che hanno in mezzo alle gambe ricordate l'angelo del focolare l'immagine l'immagine che si sono inventati i cattolici della madre la madre ma fu un'invenzione cattolica fatta nel 1800 verso la fine del 1800 a fine di distruggere la famiglia di depersonalizzare le persone era un'ulteriore invenzione comunque in data 9 dicembre 2005 il signor Carlo Caffara detto vescovo cattolico di Bologna accusando il femminismo di togliere dignità alla donna afferma la diversità è negata spiega quando in cerca di lavoro la donna si sente chiedere signora pensa di aver presto dei figli se non ne ha oppure se è già madre ne avrà degli altri domande analoghe non vengono mai rivolte agli uomini in cerca di impiego questo secondo Caffara dimostra che il femminismo toglie la dignità alla donna non che le imprese hanno le loro esigenze di sfruttamento del lavoro dice Paolo di Tarso voglio tuttavia che sappiate questo Cristo è il capo di ogni uomo l'uomo è capo della donna Dio è capo di Cristo 1 Corinti 11 3 quando gli esseri umani anziché essere definiti per ciò che hanno in mezzo le gambe come pratenendo i cattolici si manifestano come persone è sicuro che la società cattolica pone loro dei problemi come le domande del possibile datore di lavoro specie quando le farneticazioni sono il prodotto di chi manifesta come modello sociale la cosiddetta madonna immacolata e la sua vagina vergine quanto dolore l'imposizione di questa oscenità ha prodotto alle donne l'intento di Caffaro è quello di impedire alle donne di esercitare la potestà sul proprio corpo e manifestare la loro sessualità senza dover diventare vacche da riproduzione come disse Ratzinger Dio pone sull'embrione lo sguardo benevole e amoroso e come lo scultore plasma e forma la sua creazione artistica l'uomo La Repubblica 29 12 2005 che non è altro che ribadire lo stesso concetto di paroditarso il vaso d'argilla dirà forse a chi lo formò perché mi hai fatto così il vaso non ha forse piena disponibilità sull'argilla così da fare della stessa massa un vaso per suo utile e un altro per sue vile Romani 9 e 20 come vedete gli uomini sono depersonalizzati non hanno dignità solo il padrone ha dignità non si tratta non si tratta solo di un'affermazione oscena ma di vero e proprio incitamento all'odio civile e al disprezzo per la persona questo tentativo di distruggere la società civile privando la donna della propria autodeterminazione e sottomettendo a una non persona una non persona l'embrione il feto che viene costruita dal suo padrone come sua proprietà a cui si impone alla donna deferenza e sottomissione non si tratta di un'esternazione religiosa quella fatta da Ratzinger o quella fatta da Caffaro ma di incitamento all'eversione dell'ordine democratico per la riaffermazione della dottrina nazista della negazione dell'essere umano a queste affermazioni criminali risponde del mondo scientifico che ben sapendo come l'essere umano non sia altro che parte integrante della specie della natura da una costituzione che definisce la famiglia un accordo fra persone Ratzinger vuole trasformarla in una costrizione fra bestie bestie inteso nel suo significato più triviale l'embrione non è oggetto esclama Ratzinger dalla Repubblica del 20 dicembre 2005 il significato di quanto afferma è la donna è un oggetto e deve essere sottomessa all'embrione in pratica il disegno eversivo di Ratzinger consiste nel negare agli individui la loro posizione di soggetti di diritto per trasformarli in oggetti di possesso non importa attraverso cosa vengono stuprati per essere sottomessi sottomettere le donne all'embrione per privarle del loro essere dei soggetti di diritto costituzionale è l'ultima trovata dei cattolici dice Paolo di Tarso come in tutte le chiese dei santi le donne nelle riunioni tacciano perché non è stata affidata a loro la missione di parlare ma stiano sottomesse come dice anche la legge 1 Corinti 14 34 ed essendo la donna un oggetto che deve tacere non può parlare né sul feto né su un embrione deve solo coprirsi il capo e sottomettersi alle farneticazioni di Paolo di Tarso e di Ratzinger nella depersonalizzazione degli individui all'interno della famiglia si inseriscono anche le farneticazioni di Ratzinger contro i cosiddetti Pax o le unioni di fatto che invitando individuando nelle relazioni fra le persone la centralità del matrimonio escono da quella logica criminale ed oscurantistica imposta dalla Chiesa Cattolica nessun'altra forma di organizzazione prelazionale può essere comparata all'istituzione coniugale e familiare Nessun'altra santificazione della condizione gerarchica per cui il sesso femminile deve sottomissione ed obbedienza al sesso maschile attenzione la santificazione della condizione gerarchica è una delle cose più atroce che ci siano perché quando si santifica una condizione gerarchica significa che una condizione gerarchica sia all'interno della famiglia sia all'interno della società civile non è più il prodotto del divenuto di una società o di una comunità di uomini ma è la verità immutabile imposta dal dio padrone e questa condizione immutabile non può più essere toccata facciamo un esempio a Roma c'era chiaramente la schiavitù cioè la schiavitù era una condizione sociale ma la schiavitù come condizione sociale si può tranquillamente rimuovere tant'è che a Roma la rimozione della schiavitù era ordinata dagli dèi cioè gli dèi erano coloro che affrancavano gli schiavi gli schiavi venivano affrancati nei vari templi il tempio di Diana per esempio il tempio di Feronia vari templi che c'erano sono varie divinità quando arriva il cristianesimo la schiavitù diventa condizione sociale determinata dal dio padrone cioè è il dio che determina la condizione dello schiavo e quella condizione non può più essere rimossa cioè dio dice Paolo fa i vasi gli uomini sono dei vasi fatti da dio e qualcuno lo fa dominatore padrone qualcun altro lo fa schiavo e lo schiavo non ha il diritto di ambire una posizione diversa e il padrone deve esercitare il suo dominio ma perché lo ha fatto dio cioè diventa manifestazione del dio non una condizione sociale pertanto dopo che arrivò la chiesa cattolica non fu più possibile costruire la libertà e la schiavitù divenne sistematica cioè diventa l'uso normale delle relazioni fra gli uomini fino anche ai giorni nostri visto che qua e là in giro per il mondo ci sono ancora dei traffici di schiavi piuttosto pesanti e sono quelli voluti di imposti dalla chiesa cattolica cioè la schiavitù voluta dal pazzo di Nazareth voluta dal Paolo di Tarso riaffermata nelle lettere di Pietro di Paolo di Tarso come condizione della schiavitù condizione che deve essere accettata dallo schiavo che si deve sottomettere al padrone con tutto il suo corpo e con tutta la sua anima pertanto questa è la differenza fra una gerarchia sociale e una gerarchia determinata dal Dio padrone gli dèi nelle antiche religioni non hanno mai determinato una gerarchia gli dèi nelle antiche religioni non hanno mai detto agli uomini devi avere questo sistema sociale tu sei l'imperatore per volontà del Dio e non hanno mai chiesto essenzialmente agli altri uomini di essere obbedienti alla volontà del Dio dopo quell'avvento del monoteismo con l'avvento anche di tante altre cose che lo hanno favorito precedentemente ma comunque con l'avvento del monoteismo con l'avvento del cristianesimo che l'uomo resta schiavo sottoposto al Dio padrone e i cattolici si ritengono padrone degli uomini e trafficanti di schiavi e schiavisti pertanto questa è la differenza fra una condizione sociale dove le condizioni sociali sono sempre modificabili in base alle leggi e in base al costume da una condizione dottrinale imposta inammovibile e che si chiede obbedienza fino a accendere roghi fino a macellare milioni e milioni di persone per ottenere l'obbedienza dunque la santificazione della condizione gerarchica per cui il sesso femminile deve sottomissione di obbedienza al sesso maschile dice Paolo di Tarso se vogliono essere istruite in qualche cosa le donne interroghini i loro mariti a casa perché è indecoroso che una donna parli un'assemblea 1 Corinti 14 35 voi donne siate soggette ai vostri mariti come è conveniente nel Signore Paolo di Tarso lettera ai Colossesi 3 18 le donne siano soggette ai loro mariti come il Signore perché il marito è capo della donna come Cristo è capo della Chiesa del cui corpo egli è il Salvatore come la Chiesa è soggetta a Cristo così le donne siano soggette in tutto ai loro mariti Paolo di Tarso lettre agli Efesini 5 22 le donne d'età abbiano un santo decoro nel loro comportamento non siano maldicenti non dediti al vino siano invece maestre nel bene sicché sappiano insegnare le giovani ad amare i loro mariti e i propri figli ed essere prudenti caste affezionate alla casa buone soggette ai loro mariti affinché non si dica male della parola di Dio Paolo di Tarso lettera a Tito 2 3 la non persona della donna è ribadita in tutta la storia del cristianesimo che si può riassumere con uno degli scritti antichi di Tertulliano la tua letta delle donne lo riporto dall'articolo di Monica Alexander immagini di donne ai primi tempi della cristianità su storia delle donne in occidente di dubbi e però dice Tertulliano tu generi nel dolore e nell'angoscia donna tu subisci l'attrattiva di tuo marito ed egli è il tuo padrone e ignori che Eva sei tu perdura ancora in questo mondo la sentenza di Dio contro il tuo sesso dunque vivi necessariamente da accusata tu sei la porta del diavolo tu hai rotto il sigillo dell'albero tu per prima hai rinnegato la legge divina tu hai circuito colui che il diavolo non ha potuto colpire l'uomo tu così agevolmente hai superato l'uomo in margine di Dio il tuo prezzo la morte è costato la morte anche al figlio di Dio e hai l'idea di colpire di coprire le tue tuniche di pelle con ornamenti e questo è il disprezzo per la donna lanciato a Tertulliano che ribadisce quello che è il discorso della Genesi Ratzinger sta tentando di riaffermare l'orrore che questo ha prodotto nella storia imponendo quel terrore alle donne di non abortire imponendo quel terrore alle donne la sottomissione imponendo la sottomissione e il genocidio dei bambini l'attività di terrorismo di Ratzinger è tesa a riaffermare il proprio dominio su individui privati del loro status di diritto costituzionale Ratzinger vuole imporre alla donna la sottomissione all'embrione per annientare gli esseri umani dal giornale La Repubblica 31 luglio 1998 fino al 1967 oltre 150.000 bambini furono spediti anche contro il volere delle famiglie a risanguare l'impero coloniale i baby deportati di sua maestà Londra chiede scusa per le violenze ai piccoli emigranti orfani figli di ragazze madre o di poveri venivano imbarcati per l'Australia il Canada la Nuova Zelanda il racconto dei sequestrati botte stupri e per cibo pezzi di pane gettati per terra dalle suore a guzzine a Teresa come a tanti altri bambini era stato raccontato che partiva per una vacanza e invece l'accoglienza dell'orfanotrofio di Nirol Coll nel nord del Kisland in Australia fu quella di un campo di concentramento botte sevizie lavoro senza sosta Teresa ricorda bene le sister of mercy le sorelle della misericordia a cui era stata affidata per loro la carità cristiana erano pezzi di pane duro buttati per terra a scatenare le zuffe fra i ragazzi affamati ancora più sfortunato era chi cadeva in mano ai Christian Brothers monaci cristiani che dell'amore fraterno avevano dimenticato anche le basi alcuni di i ragazzi finiti nella loro grinfia raccontano di sfide all'ultimo stupro di gare a chi superava le cento violenze il meccanismo della deportazione era semplice sin dal 1850 verso le colonie di sua maestà fu organizzato un traffico di bambini trasfusione di sangue bianco in zone ancora non del tutto civilizzate in genere erno orfani figli di ragazze madri o ceduti da genitori incapace di mantenerli ma anche bimbi rapiti senza il consenso delle famiglie almeno 150.000 in gran parte fra i 7 e i 10 anni ma anche bimbi di 3 anni e questa tratta di innocenti durò fino al 1967 terrorizzato da non aver più bestiame umano da trafficare eccolo Camillo Ruini in un disperato appello affinché si possa consentire alla chiesa cattolica il diritto di continuare ad avere individui trasformati in oggetti da possedere manifestare tutta la sua disperazione perché gli individui vogliono essere persone soggette di diritto del quotidiano il mattino di Padova 27 novembre 2005 c'è una diffusa tendenza a depotenziare l'istituto del matrimonio assimilandolo ad altri tipi di unioni e convivenze col risultato che il matrimonio non è più percepito come espressione e garanzia della natura stessa dell'amore umano ma come frutto di convenzioni sociali facilmente modificabili e te credo le farneticazioni al limite dell'incitamento all'odio sociale di ruini vogliono distogliare l'attenzione sul fatto che il matrimonio come imposto dalla chiesa cattolica è solo una convenzione che nei secoli è stata imposta contro le naturali tendenze degli esseri umani e sono queste tendenze che si ribellano all'odio cattolico dal quotidiano alla repubblica 13 novembre 2005 Firenze convegno di geriatria ricerca di libertà dopo unioni consumate ma sei volte su dieci decidono le donne il divorzio con i capelli grigi record di separazione per gli over 65 aiutati da longevità e viagra Firenze hanno chiuso con il lavoro hanno tirato sui figli ora possono pensare a se stessi e costruirsi una vita migliore magari ponendo fine ad un matrimonio deteriorato da anni di convivenza rancorosa fra le coppie anziane è boom di separazioni nel 2001 i divorzi coinvolgevano solo 1,2% dei cittadini sopra i 65 anni nel 2005 si calcola che siano saliti all'1,5 nel 2011 si ritiene che saranno il 2,5% questo significa un raddoppio dei divorzi tardivi in soli dieci anni e spesso diventano tutte coppie di fatto senza nessuna protezione sociale per l'odio di ruini e razzinger per la società civile italiana molte regioni italiane stanno costituendo registri pubblici la Spagna l'Inghilterra la Francia e altri paesi hanno messo in atto leggi per risolvere il problema sociale ma perché la Chiesa Cattolica si oppone? perché venendo meno il suo modello di famiglia come unico e obbligato una società viene meno anche gran parte della sua attività di manipolazione mentale sui ragazzi 3 la funzione della famiglia è partorire bestiame in funzione del Dio Padrone questo vuole la Chiesa Cattolica la miseria di una società sia quando la relazione fra risorse distribuite e crescita demografica viene sbilanciata quando la crescita demografica supera le possibilità di un sistema sociale di produrre e distribuire la ricchezza si ha la costruzione della miseria quando si ha la costruzione della miseria all'interno di un sistema sociale l'oggetto di cui si fa mercato di cui si fa commercio sono gli esseri umani in quanto diventano merce disponibile a basso costo quando le persone vengono ridotte al rango di merce si crea la condizione ideale affinché la Chiesa Cattolica possa spacciare proprio di assassino esattamente come una dose di eroina e quanto sta succedendo in Africa dove la Chiesa Cattolica sta facendo una vera e propria guerra affinché le persone non usino il preservativo ma procreino in continuità in una situazione di diffusione dell'AIDS questo discorso l'ompierò ulteriormente quando sistemerò il testo relativo alla carità cristiana è importante che si riesca a capire come la necessità del cristianesimo consista nell'obbligare le persone a fare delle cose mediante le quali distruggere la loro vita l'obbligo morale imposto dal cristianesimo è un obbligo ottemperando il quale si costruisce la distruzione dell'essere umano l'idea della famiglia in funzione del produrre bestiame per gli padrone è un'idea cristiana moderna nasce nel diciannovesimo secolo quando iniziano le lotte per l'emancipazione femminile le rivendicazioni al suffragio universale eccetera prima delle richieste di emancipazioni femminili la relazione sessuale era scontata come era scontata che a quasi ogni rapporto sessuale corrispondeva la nascita di un figlio con l'emancipazione femminile la società iniziò a spostare l'attenzione dal sesso alla persona la persona non era più solo un sesso ma una persona che rivendicava il proprio diritto a vivere senza necessariamente essere schiavizzata da partorirai con dolore con la nascita della contraccezione prima i figli e poi l'embrione hanno assunto per la chiesa cattolica la funzione di strumenti mediante i quali riaffermare il proprio potere all'interno scusate un attimo solo riaffermare il proprio potere all'interno della società civile prima che la chiesa cattolica usasse i bambini prima e l'embrione oggi come strumento coercitivo nei confronti della rivendicazione di libertà dell'essere umano e femminile dovremmo fare la storia dell'abbandono dei bambini e del traffico di carne umana che ne faceva la chiesa cattolica attraverso la gestione degli orfanotrofi non esiste un dato dei molti bambini che entravano negli orfanotrofi e non esiste un dato dei pochi che ne uscivano in tutta la storia della chiesa cattolica fino ad oggi fare figli per distruggere la società civile costringere le persone a perdere la loro vita inseguendo impegni moralmente imposti fino a mettere in difficoltà la loro struttura psichica quando si trova un bambino abbandonato nei cassonetti la responsabilità è da addossare a Ratzinger e i suoi predecessori le responsabilità sono da debitare al ministro dell'istruzione e i suoi predecessori non hanno reso le persone consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri ma attraverso un'attività omissiva hanno nascosto leggi e regole e norme a cui le persone potevano appellarsi e non abbandonare il figlio nel cassonetto la responsabilità della struttura criminosa composta dai magistrati i quali giustificano se stessi perché non possono sapere tutto e nello stesso tempo offendono la società civile pretendendo che la società civile sia conoscenza di leggi enormi che essi stessi nascondono onde trarne ingiusto profitto da qui le fanaticazioni criminali di Ratzinger che dice tratto da il gaggettino del primo settembre 2005 il mondo contemporaneo non escluda Dio dalle sue società magari anche opulente ma che si privano del loro futuro non facendo più nascere figli e parlando della nascita dei figli e parlando della nascita dei figli sono un dono apportatore di vita e di benessere per la società ne siamo consapevoli di fronte a nazioni che è il cao demografico priva della freschezza dell'energia del futuro incarnato dei figli su tutto però si erge la presenza benedicente di Dio che però viene sempre più spesso escluso da qui al meticciato del presidente del senato opera vero rigurgito da ventennio nazista ma già Voitila nel 1999 aveva fermato tratto della Repubblica 8 febbraio 99 che dire poi ha proseguito Giovanni II di quei genitori che obbedendono una visione egoistica ed edonistica dell'esistenza rinunciano volontariamente al dono e alla gioia di essere padri e madri dovrebbe chiederglielo a lui chi gli ha fatto fare a rinunciare a quel dono e a quella gioia deficiente questi personaggi nella loro follia ossessiva fingono di ignorare che essere padri e madri è un dovere un dovere da svolgere con impegno e abnegazione ma soprattutto con responsabilità e impegno civile i bambini non sono i bambolotti con cui i preti giocano nei seminari cattolici Voetile e Ratzinger avrebbero dovuto porre più attenzione alle condizioni di vita dei ragazzi anziché proteggere la pedofilia cattolica Ratzinger avrebbe dovuto denunciare ai tribunali penali l'attività pedofilia dei preti cattolici anziché supplicare il segretario di stato USA affinché gli evitasse il processo per i suoi crimini costringe le persone a fare figli per distruggere società civile e dominarla meglio in Africa le condizioni sono drammatiche Ratzinger dovrebbe stare in galera quali responsabili di genocidio il governo egiziano ha già dichiarato che la società civile non è in grado di garantire un futuro dignitoso alla società se non viene messo un freno alla crescita demografica del paese e avrete altri x numero di emigranti di extracomunità in Italia i figli sono un patrimonio prezioso per il sistema sociale proprio perché sono un patrimonio prezioso è necessario che i genitori in special modo la madre sia posta nelle condizioni di fornire ai propri figli gli strumenti per gestire consapevolmente la loro vita nella società in cui nascono partorire bestiame affinché Ratzinger possa praticare il sacrificio umano del battesimo per poi rendere questi ragazzi dipendenti da quella forma di eroina che è l'immagine del Dio padrone della sua provvidenza significa agire per distruggere la società civile distruggerla sia gravandone i costi oggi che ipotecandone il futuro attraverso l'accentuazione del disagio sociale delle persone impedire che i giovani siano forniti gli strumenti adeguati per affrontare il futuro è compito della Chiesa Cattolica il flagello dell'istruzione obbligatoria maestà questo è scritto da Pio IX una lettera Vittorio Emanuele 3 gennaio 1870 ed è il flagello dell'istruzione obbligatoria cioè l'unità d'Italia stava introducendo nel suo ordinamento giuridico sociale l'istruzione obbligatoria finalmente i ragazzi avevano imparato a leggere e a scrivere e sarebbero diventati più consapevoli fu una delle grandi rivoluzioni del sistema sociale ebbene davanti a questa rivoluzione chi è che si oppone i trafficanti di schiave il Ratzinger del suo tempo ed è questa lettera che scrive al re d'Italia Vittorio Emanuele II Maestà non ho dato corso la prima lettera qui unita e che ho diretto a vostra maestà perché il signor ministro del Portogallo mi assicurò di aver scritto in proposito ma lo vedendo riscontro invio a vostra maestà la stessa lettera vi unisco poi la presente per pregarla a fare tutto quello che può al fine di allontanare un altro flagello cioè una legge progettata per quanto si dice relativa all'istruzione obbligatoria questa legge parmi ordinata per abbattere totalmente le scuole cattoliche soprattutto i seminari oh quanto è fiera la guerra che si fa alla religione di Gesù Cristo spero dunque che la vostra maestà farà farà sì che questa parte almeno la chiesa sia risparmiata faccia quello che può maestà e vedrà che il Dio avrà pietà di lei lo abbraccio nel Signore lettera Pio IX a Vittorio Emanuele II contro l'istruzione obbligatoria c'è molto poco da aggiungere se non che la distruzione della società civile e l'impegno primario della chiesa cattolica al fine di sancire il proprio dominio e i ragazzi sono i soggetti deboli che la chiesa cattolica vuole dominare e sottomettere e se avete qualche dubbio di quello che vi sto dicendo vi do una notizia del 24 gennaio 2006 da Il Gazzettino parroco amici insegnanti piangono il quindicenne che si è tolto la vita la madre è straziata dal dolore per la perdita del figlio quindicenne i compagni di scuola del massale gli insegnanti gli amici la catechista il parroco si interrogano sul suicidio del quindicenne di Favaro all'indomani della morte avvenuta la stazione dei treni di Carpenedo all'origine della decisione di togliersi la vita sembra che sia stato un banale litigio con un'amica con la quale si vedeva da qualche tempo allora il motivo del suicidio è che il ragazzo era stato privato dei mezzi con i quali affrontare consapevolmente la sua vita quell'omicidio la responsabilità di quell'omicidio è dovuta alla madre è dovuta alla famiglia è dovuta alla catechista è dovuta al parroco cioè è dovuta a tutti quei personaggi che hanno agito affinché il ragazzo non fosse consapevole della qualità della profondità e della realtà della propria esistenza praticamente lo hanno disarmato non gli hanno fornito strumenti affinché si ammazzasse questo lo trovate sul gazzettino del 24 gennaio 2006 pagina interna naturalmente del gazzettino di Mestre perché di queste cose almeno se ne parla meglio 4 scopo della famiglia e costringe i propri figli con la violenza ad accettare la fede del Dio padrone dal giornale La Repubblica del 29 marzo 1999 Catania la bimba trovata col cuore spaccato l'ho fatto per salvare il mondo la zia accoltella la nipotina è stato un ordine di Dio dramma sigonella in una famiglia di militari americani Catania era un ordine giunto da Dio sentivo una voce che mi ordinava di punire alcuni miei desideri sbagliati alcune voglie che avrebbero potuto portarmi sulla cattiva strada sta forse in questa frase la chiave per capire l'omicidio di una bambina americana di 9 anni uccisa dalla zia che la codiva in assenza della madre i ragazzi come oggetti di possesso concepiti e trattati dagli adulti attraverso la manipolazione mentale che hanno subito dai cattolici nonostante gli sforzi della corte di Cassazione nel tentativo di riportare la situazione sociale al rispetto delle norme morali costituzionalmente determinate la manipolazione mentale cattolica spesso troppo spesso il sopravvento nella gestione delle emozioni delle persone dal giornale della Repubblica 19 gennaio 1999 la famiglia pensava che la piccola fosse indemoniata il rito davanti alle sorrelline è una strega uccisa a botte Losanna a 11 anni dalla madre e dalla zia l'omicidio scoperto per caso dalla polizia Losanna è stata uccisa a botte a 11 anni con l'assurdo sospetto di essere posseduta da uno spirito maligno ma invece purtroppo la storia vera è accaduta in uno dei subborghi di una ricca operosa e tranquilla città svizzera ed è stato durante le festività di Natale probabilmente fra Santo Stefo San Silvestro che a Losanna è stata sacrificata la piccola protagonista della vicenda dal giornale Il Gazzettino del 2 settembre 1999 addio alla frusta nei licei inglesi nelle public school le severe e costose scuole private del Regno Unito da ieri una legge laborista ha messo al bando schiaffi bacchettate frustate e scudisciate ora però 40 scuole cristiane tradizionaliste fanno ricorso alla Corte Europea dei diritti umani per difendere la libertà di bacchettare le natiche degli allievi L'esercizio del terrore nei confronti dei figli è finalizzato ad imporre l'indirizzo della manipolazione mentale voluta dai cattolici una manipolazione mentale finalizzata a sottomettere le emozioni dell'individuo alla fede in un Dio padrone e terrifico un Dio terrifico che si manifesta nelle azioni quotidiane e che quel demente di Ratzinger chiama la bontà di Dio derubando il Dio buono e i neoplatonici e nascondendo il macellaio assassino che è il suo Dio della Bibbia azioni quotidiane che vanno dalla violenza al terrore allo stupro alla discriminazione fra bambini e bambine una famiglia come cinghia di trasmissione della fede che deve essere imposta ai bambini fin da piccolissimi quando non si possono difendere non possono discriminare e la madre deve per la Chiesa Cattolica pensare a loro come dei pupattoli da rendere sottomessi ed obbedienti se il terrore fisico è più evidente sottile ma distruttivo è il ricatto emozionale e psichico a cui la madre sottopone i figli per costringere ad accettare la sua stessa fede religiosa solo una madre che rivendica la propria libertà culturale e psichica può trasmettere questa tensione ai propri figli ed impedire loro di essere sottomessi e lo può trasmettere quando i suoi figli sono ancora nella sua pancia e quando fin dal primo giorno di nascita i suoi figli comunicano a lei attraverso i loro occhi e i loro bisogni e attraverso gli occhi da neonato colgono i segnali che la madre invia loro attraverso le emozioni solo la madre che si ribella alla sottomissione può trasferire al suo figlio la tensione di libertà una tensione che il proprio figlio alimenterà dando la connotazione culturale propria della società nella quale agirà questi comandamenti che oggi io ti do ti saranno ti staranno nel cuore li inculcherai ai tuoi figli ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua quando stassarai per via quando ti coricherai e quando ti alzerai te li legherai alla mano con un segno e te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sulle stipidi della tua casa e sulle porte della tua città Deuteronomio 6 6 9 ed è l'ordine della Bibbia di manipolazione mentale dei ragazzi devi costringere i tuoi figli alla sottomissione devi privarli della loro capacità di affrontare la loro esistenza tu sei il padrone del bestiame che è tuo figlio dice la chiesa cattolica e per farlo cita Paolo di Tarso le donne d'età abbiano un santo decoro nel loro comportamento non siano maldicenti non dediti al vino siano invece maestri nel bene sì che sappiano insegnare alle giovani ad amare i loro mariti e i propri figli ad essere prudenti caste affezionate alla casa buone soggette ai loro mariti affinché non si dica male della parola di Dio Paolo di Tarso lettera Tito 2 3 ribadisce la chiesa cattolica lasciate che i bambini vengano a me ci penso io a farli stuprare dei preti cattolici e anche dagli altri cristiani affinché si convertono alla vera fede di Cristo l'odio per i non sottomessi all'orrore del Dio creatore non solo giustifica la violenza psichica ma anche la violenza fisica che hanno fatto nella storia tutti i cristiani da Tommaso d'Aquino giustificata e voluta dice Tommaso d'Aquino per quanto riguarda gli eretici quelli che non si mettono in ginocchio ricordo che per la chiesa cattolica sono eretici per quanto riguarda gli eretici essi si sono resi colpevoli un peccato che giustifica che non solo siano espulsi dalla chiesa con l'interdetto ma anche che vengono allontanati da questo mondo con la pena di morte è un delitto molto più grande falsificare la fede che è la vita dell'anima che falsificare il danaro che serve alla vita mondana se dunque falsari e malfattori vengono subito portati dalla vita alla morte legalmente ad opera dei principi laici per quanto maggior diritto gli eretici immediatamente dopo la loro discriminazione per l'eresia e incriminazione per l'eresia non soltanto possono essere cacciati dalla comunità ecclesiale ma anche a buon diritto giustiziati questo è ciò che dice Tommaso d'Aquino nella sua Summa teologica 2 A E Q 11 virgola A 3 ed è tratto naturalmente al gallo quanto ancora di Carl Heinz Deschner edizione Massari e Lutero ribadisce il concetto di Tommaso d'Aquino tanto per sapere che i cristiani sia evangelici che i cattolici sono la stessa roba anzi uno e l'altro poi li accuseremo uno per una cosa l'altro per l'altro Lutero afferma ricordo che per Lutero è il Ratzinger che è che è un eretico visto che si accusano di eresia l'uno con l'altro Lutero con gli eretici scrive Lutero non è il caso di fare complimenti li si può condannarli senza nemmeno sentirli e mentre creparono sui roghi il credente dovrebbe stirpare il male e le radici immergere le proprie mani nel sangue del vescovo o del papa che è il demonio travestito citazione da Lutero tratto del gallo canto ancora da qui il ruolo della famiglia e il suo scopo di fare figli come invocato da Ratzinger e Voetina figli che sono bestiame da mettere in ginocchio davanti ad un groce fisso e non persone che affrontano con consapevolezza e responsabilità la loro esistenza donne che sono uteri da sottomettere all'embrione il matrimonio come metodo di gestione criminale della sessualità delle persone questa e la diffamazione fatta del matrimonio da Paolo Di Tarso è riaffermata da Ratzinger nel tentativo di distruggere società civile italiana e le libertà costituzionali scritto in Marghera 16 gennaio 2006 bene io ho finito la diffamazione del matrimonio naturalmente qui l'unica speranza che abbiamo in tutto il resto è che la percezione all'interno della massa della diffamazione del matrimonio fatta da Ratzinger per ordine appunto dei Vangeli per ordine appunto del Paolo Di Tarso è percepita dalle persone e in effetti ho i dati fra i cattolici della dell'adesione dei cattolici italiani alle farneticazioni di Ratzinger e sono piuttosto basse ed è molto polemica su questi dati comunque ce li ho da Repubblica di mercoledì 18 gennaio 2006 andrebbe fatta solo una trasmissione per parlare di questi dati bene questo è la distruzione della società civile della famiglia e io qui chiudo la trasmissione non ho neanche acceso le telefonate vabbè non c'è tempo e vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo e un'altra cosetta cosetta ancora vi ricordo che sabato alle ore 20.30 qui a Radio Gamma 5 ci sarà il dibattito su Magia Stragonaria Paganesimo parleremo del giudizio di necessità appuntamento in sala dibattito a Cadoneghe via Belgiore 9 sabato 28 gennaio alle ore 20.30 ciao a tutti e a risentirci e a risentirci